Nessuno dei miei sogni nel cassetto si è realizzato, io avrei voluto fare la cantante ma sono stonata, avrei voluto giocare nella nazionale di pallavolo ma sono nana, avrei voluto conoscere Michael Jackson ma è morto troppo presto. Tra questi sogni non c'era quello di fare il Presidente del Consiglio dei Ministri perché sono per questo una persona troppo lucida. Però Michael Jackson mi ha insegnato l'inglese perché non tutti sanno che io ho imparato l'inglese, soprattutto perché ero un'appassionata di musica e volevo capire che cosa dicessero questi testi, questo mi ha molto aiutato, mi ha aiutato soprattutto nella politica estera.